Dal popolo ebreo lungo i deserti dell'Esodo fino ai cristiani della Chiesa Contemporanea, Dio si è sempre rivelato agli uomini come vita che vuole comunicarsi, come amore che riscatta l'uomo dalle infedeltà. Alla folla che gremiva un'assolata piazza San Pietro per l'Angelus, il Papa ha parlato della Trinità nel giorno in cui la liturgia dà solennità a questo mistero. Gesù lo ha portato a compimento, svelandoci, ha detto, Francesco, il volto di Dio, uno nella sostanza e trino nelle persone, legate da una relazione d'amore che tutto redime, crea e santifica. Anche la vita eterna di cui Gesù parla a Nicodemo nel Vangelo è, ha ribadito il Papa, amore smisurato e gratuito del Padre che Gesù ha donato sulla croce e che l'azione dello Spirito Santo ha irradiato come luce nuova sulla terra. E lo è la grazia, sperimentata da Paolo, che lo spinge a dire ai Corinzi, siate gioiosi, vivete in pace. La comunità cristiana, pur con tutti i limiti umani, può diventare un riflesso della comunione della Trinità, della sua bontà, della sua bellezza. Ma questo, come lo stesso Paolo testimonia, passa necessariamente attraverso l'esperienza della misericordia di Dio, del suo perdono. Dopo l'Angelus, Papa Francesco ha ricordato la beatificazione di Italamela, mistica del secolo scorso, che condusse un'intensa vita spirituale nella contemplazione della Trinità. Nella giovinezza si professò Attia, ma si convertì in seguito a un'intensa esperienza spirituale. Grazie. 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 Grazie.